E allora, oggi siamo su un gioco particolare, Black Desert Mobile. Cos'è questo gioco? Nasce qualche anno fa come MMORPG, come un Lineage, World of Warcraft, questi giochi qua. E la sua particolarità, esce su PC ovviamente, la sua particolarità rispetto agli altri è che entra sul mercato con la prerogativa di avere una grafica molto più pompata rispetto alla norma. Perché gli MMORPG, per chi ha giocato a questi giochi, avevano sempre un grande difetto. Essendo dei giochi incredibilmente vasti ed enormi, con sessioni con tantissimi personaggi a schermo, tantissime magari creature, tantissima roba, non sono mai stati sinonimo di grafica pompatissima. Ovviamente si doveva scendere a dei compromessi, quindi un gioco incredibile, pieno di meccaniche, profondissimo, che però a livello grafico non era mai un granché. Mentre Black Desert cercava di sovvertire questa cosa. Quindi nasce con questo concetto. E io ora mi chiedo, come fa un gioco del genere, raccomandato, ci sono i due server, boh, prendiamolo uno a caso. Come fa un gioco del genere che nasce, cioè un MMORPG enorme, con una grafica bestiale, ha da prodare su cellulare? Allora, questa cosa, proprio mi ha incuriosito tantissimo. E andiamo a vedere. Già si presenta, cioè nemmeno sembra un gioco per cellulare effettivamente. E la grafica del modello è bestiale, per essere su cellulare appunto. E allora, immagino che le scelte siano... Wow, guarda... C'è pure tutti i dettagli dell'abito. E allora... Sono dei personaggi già prestabiliti? Tipo questa è la Valkyria. Ah, questo è lo stesso personaggio che c'è pure sul gioco completo. Ecco, io dico gioco completo, non so se sarà una versione ridotta o semplicemente con una grafica più bassa. E allora... Cosa mi dà qua? Sono dei preset, quindi. Arciere. Scudo e mazza. Aspetta. Boh, vabbè. Sono un po' confuso. Mi baso anche in base a quello che vedo. Ok. Quindi tipo una specie di monaco che combatte a mani nude. Ma che figata la sua armatura! Ma wow! Dark Knight. Carino. Tamer, quindi... Creature e cose varie. Una strega. Questo che è un samurai... Ah, qua mi dice... Le armi. Quindi spada. E questa specie di alabarda potrebbe pure andare. Gigante. Gigante. Destroyer. Che cos'è? Il pugno? Non capisco. È un'ascia. Le l'abbiamo vista che aveva. Una lancia? No, ma non ha una lancia. Paladino. Questa non è male. Una Valkyria. Witch. Cos'è? Una strega? Terribile. Non mi piace. Ranger. Potrebbe interessare. Cos'è? Un'elfa? Sì. Non so scegliere. Guerriero. Berserker. Gladiatore. Ok. Scegliamo lui. Andiamo per ora un po' più veloce. Ah, guarda! Ah, vabbè. C'è pure il... Incredibile che siamo su smartphone. Io sto restando piacevolmente colpito. Wish è comprare. Cioè, forse si acquistano le... Io però sto smanettando un po' La lucidità, l'effetto lucido. Va. Ok. Ma addirittura... Ah, io ricordo che siamo su... Su cellulare, ah. Siamo su Android. Questo c'è anche nel computer. Non pensavo ci fosse anche qui. Questo è per modificare tutte le parti, delle... Ogni parte del corpo. Esatto. Polpacci, cosce... Diciamo che... Un po' di muscoli. Bello tarchiatello. Spalle. Sto gioco, nel computer, ha il... Sistema questo di... Non viene mai come si chiama. Dove modifichi il personaggio. Non viene mai. Diciamo, è uno dei più completi che ci siano attualmente. Perché, come vedete, potete fare praticamente tutto. Scegliamo la corazza. Che, ovviamente, non avremo. Ecco. Io avevo... L'ho fatto un po' deformato. Va bene. Ok. Allora, va bene questa. Sbrighiamoci. Facciamo, tipo, una carrellata, tanto per vedere cosa c'è. Ah, qua le armature. Quindi possiamo farlo da fuori e da dentro. Ok. Penso che abbiamo visto tutto. Aggiungi il corpo alla lista. La faccia. Super fighetto. Un po' strambo. Un po'... Un po' X-men. Va bene questo. Ok. Nome. Ovviamente. Me l'avranno fregato ora. Vediamo. Ok. Perfetto. Dicevo. Ok. Questi sono gli slot. Quindi noi possiamo fare tre personaggi, a quanto pare. E due... Tipo... Ah. Per sbloccare gli altri. Boh, non so. Poi si paga. Poi... Poi si vede. Livello 1. Va bene. Proprio sono curiosissimo. Andiamo subito. Entriamo. Sono curioso perché... Cioè. Io tecnicamente sto usando il mouse. Ma è su... Smartphone. Siamo su smartphone. Quindi... Magari i comandi sono... Con tutti i comandi a schermo da tappare. Quindi vediamo un po' come fare. Io lo giocai, l'ho presi al day one. Quando uscii. Perché io ero malatissimo di questo stile di giochi. Ho giocato per tantissimi anni a Lineage 2. Per altri tantissimi. A World of Warcraft. E poi ne ho fatti tantissimi. Che adesso nemmeno mi ricordo i nomi. Veramente ne ho fatti tanti giochi. A un certo periodo tutti quelli che uscivano li provavo. Terra e un altro. Non mi ricordo più nemmeno i nomi. E ho provato pure questo. All day one. Questo è stato l'ultimo. Quello che ho giocato... Quello che ho giocato... Un sacco pure. Aspettare. Si chiamava... Guild. Guild Wars. Guild Wars 1. E Guild Wars 2. Guild 2. Ci ho giocato veramente tanto. Mi è piaciuto un casino. Questo qui. L'ho preso al day one. Ci giocai... Per un mesetto. E poi l'ho posato. E ho smesso con i giochi MMORPG. Mi fece confondere da morire. Lo trovai complessissimo. Macchinoso. Troppo esagerato. Tra l'altro si basava sul commercio. Si dovevano creare dei... Dovevi creare il carretto. Andare a commerciare nelle città vicine. Insomma... Non mi era piaciuto. È graficamente stupendo. Meraviglioso. Vediamo se posso camminare col mouse. No. Quindi devo... Devo dire che... Cioè... Per essere su uno... Io sto restando veramente sconvolto del livello. A cui stanno arrivando i videogiochi su... Su Android. Veramente incredibile. Allora, vediamo se per ora riusciamo a giocare un po' col mouse. Io in caso poi... Per la prossima volta... Me lo... Me lo adatterò con... Magari un joystick. Perché... Allora... Penso sia molto... Autoguidato. Quindi io clicco sulla missione. Lui ci va in automatico. Tutto in inglese. Per me... Personalmente è un problema. Andiamo a vedere... L'equipaggiamento... Cioè a me sta sembrando il gioco completo su computer. Ora è un po' che non ci gioco, non mi ricordo. Ma mi sta sembrando il gioco completo in versione un po' scalata graficamente. Un po', vabbè. Molto scalata graficamente però tanta roba per il cellulare. Vediamo un po' i comandi che abbiamo. Come al solito... La prima volta che si accede a questi giochi è sempre un delirio. E allora... Qui abbiamo le ricompense... Eventi... Ok... Questa che roba è? Io inizio a cliccare un po' tutto. Cerco l'inventario. Boh... Ok... Conferma. L'inventario. Craft. Cerco di riconoscere qualcosa. Skill. Qua ci fa vedere le varie skill. Quindi da sbloccare. Perfetto. Preview. Screenshot mail. Character. Sì? Perché mi chiede... Se vuoi... La conferma per cambiare di... Ah! Perché io ho detto di cambiare character. Ok. No, 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 no. Ritorniamo in gioco. Comunque. Voglio far notare il caricamento è uscito nel menu. Cioè, dal gioco al menu. In pochissimi secondi. Ma la faccia. Tra poco non serviranno più le console portatili. Tu perché mi continui a fissare così? Dove? Caspita, è il inventario. L'inventario. Delirio. Che delirio. Questo è quello che io ho ora. Non c'ho più l'età. Guarda, non mi dire che era lui. Ma va. L'avevo qua davanti. Non c'era. E allora. Maria, quanta roba! Ok. Calma. Allora. Armi. Va bene. Armi. Mano destra, mano sinistra, scudo. Ok. Berrettuccio. Non c'è. Comune equip. Non c'è. C'era? Equip. L'ha messo? Allora. O c'è il tastino che dice di non far vedere l'elmetto. Che però qua non mi sembra di vedere. Outfit. Ok. Anelli, anelluzzi, collane, maglie. Vediamo la maglia se si vede. Eh, però non si vede la differenza. Forse è che quella base. Che delirio. Ok. Allora. Vorrei fare almeno un combattimento. Ora vediamo di cercare pure la mappa del mondo. Per vedere un pochino. Io sto facendo le prime missioni tutte in maniera automatica per ora. Ah, ok. Forse questo simbolo significa che dobbiamo andare a uccidere delle creature. Ok. Distruggi. Qua uccidi. Parasitic B. B che sono le... Le api? Combattimento. E allora? Vabbè, io qua non leggo niente. Perfetto. Combattimento base. Bello l'effetto comunque del colpo. E qua abbiamo le varie skill. Punti vita. MP. Blu. Ok. Questo che è? Ah, l'evasione. Fa la rotolata. Wow. Auto. Auto battle. Perfetto. Ciao. Ma che figata. Ci sta facendo tutte cose lui. Ma quindi io lo posso lasciare qua tutta la notte a farmare? Lui si sta qua come un pazzo. Perché l'ha completata, ma io... Cioè, se lasciassi qua... Ah, raccoglie pure gli oggetti. Quindi ho preso uno scudo. Ma lui continua. Sta salendo di livello. Facciamolo arrivare al 2. Esperienza 93%. 93.8. Quindi possiamo anche trovare delle zone di farming e lasciarlo in automatico. Ovviamente per il cellulare è tanta roba. Livello 2. Ok. Fermati, 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 fermati. Ok. Quindi io... Con questo cammina... No, ci vuole un joystick. O giocarlo sul cellulare. Io così, sull'emulatore, in questo modo, non è molto fattibile. O dovrei andare sempre in automatico. Ok. Cliccando il tasto centrale, lui punta automaticamente sul nemico più vicino. Quindi comunque è molto semplificato. Le animazioni sono veramente carine. C'è l'effetto dei colpi fatto veramente bene. Già viene voglia di provare le altre classi per vedere un po'. Ah, lui è in posizione... Ah, lui è in posizione... Andiamo a consegnare questa missione. Ah, così? Mi ha dato uno scudo, così vediamo anche il cambio dell'equip. Ah, automaticamente. Perfetto. Io lo tocco e lui lo va ad equipaggiare. Facciamo l'altra e poi direi che va bene così. Ti dice pure i metri. Ok. Anzi, aspetta, aspetta, fermo un attimo. Voglio vedere se ci si vede... Siamo finiti in mezzo ai nemici. Aspetta. Sganciati. Ok, questi per fortuna non sono aggressivi. Cioè, volendo anche così si può fare anche con l'emulatore. Tanto è... E cavolo, non c'è una zona senza nemici. Quello è passato da lì. Magari anche giocarlo con qualche amico non sarebbe male. Vediamo la mappa. Ah, guardate, c'è pure la mappa in miniatura in alto a sinistra. Grandioso. Che, devo dire che è fatta anche abbastanza bene. Mappa del mondo. Beh. Allora, allora. Questa è tutta? Vabbè, ci sono suddivise a regioni, forse. Mamma mia, che casino. Vabbè, c'è da studiarci su questo gioco. Ok. Tanta roba. Va bene. Qua rimpiccioliamo. Quindi possiamo pure chiuderla, però non mi interessa tanto. È automatico. Questo che è? Questa piantina. Boost. Vabbè. Ok. Tipo dei buff forse che ci danno. Non è male per nulla. Non è male per nulla. Mettiamo in auto. E facciamo. Quindi dobbiamo uccidere dieci. Ah, c'è pure il mining qua. Quindi c'era già una roccia da... Da andare a scalpellare. Raccogliamo pure gli item dai mob. Allora, questa l'abbiamo completata. Fermiamoci. Livello 3. Fermati, fermati, fermati. Ok. Vabbè, ormai questa la uccidiamo. Ma ci attacca? Resta tipo in... L'apparata, bello? Ok. Volevo andare a vedere... Il materiale. Dov'era qua? Sganciati dai nemici. Non voglio... Cioè, pure la vegetazione è pure bella... Abbondante. Cioè, non sono campi vuoti. Ci sono... C'è molta vegetazione, alberi, rocce. Quindi, cioè, l'ambiente è pure bello pieno. Il gioco non... Ah, mi ha attaccato. Io ho scaricato il gioco. Non ho fatto caso il primo download, quanto è stato grande. Non mi ricordo. Però poi, successivamente, mi sembra che abbia scaricato 5 giga. Che è... Anche poco per quello che sto vedendo. Devo dire. Ok. Questa è completata. Quindi non si deve tornare dal personaggio che ce l'ha consegnata. Ma basta cliccare. E questa si evita una bella rottura. Quindi ci ha dato delle pozioni. Punti esperienza. E via discorrendo. Quindi, devo dire che è molto, molto meglio di quello che potessi immaginare. Non credevo che gli MMORPG fossero arrivati a questo livello pure su smartphone. Complimenti. C'è il lavoro di ottimizzazione che c'è dietro. Immagino incredibile. Questo era Black Desert. E' promosso. Promosso totalmente. Davvero bello. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Grazie.